Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior Sega elettrica. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance. Lanciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Black & Decker elettrosega. La sega elettrica a batteria a litio Black & Decker è una sega compatta ed ergonomica, perfetta per le operazioni di potatura leggera. La batteria a litio garantisce una lunga autonomia e la lunghezza della barra di 20 cm consente di tagliare fino a 16 cm di diametro. Il sistema antiurto protegge le mani dal contatto accidentale con la lama e il livello di potenza sonora è di 89,6 decibel. Il peso della sega è di 2,4 kg. Questa sega elettrica a batteria è perfetta per le operazioni di potatura leggera in giardino. Dotata di una batteria agli ioni di litio, offre una lunga autonomia e può tagliare fino a 16 cm di diametro con la sua barra lunga 20 cm. È inoltre dotata di un sistema di ammortizzazione che protegge le mani dal contatto accidentale con la lama e ha un livello di potenza sonora di 89,6 di numero 4, in LG HEC. La moto sega elettrica in LG HEC è perfetta per i proprietari di casa che necessitano di una moto sega affidabile per un uso occasionale. Il tendicatena e il cambio manuale della catena facilitano la corretta tensione della catena e la sua sostituzione quando necessario. Gli ingranaggi in metallo garantiscono una maggiore durata, mentre l'impugnatura ergonomica assicura una presa confortevole. Il serbatoio dell'olio integrato garantisce la lubrificazione automatica, mentre la protezione antiritorno e l'arresto immediato assicurano un funzionamento sicuro. L'ampio foro di riempimento dell'olio con chiusura rapida facilita il riempimento del serbatoio, mentre il perno di bloccaggio della catena evita che la catena si blocchi. Terzo posto c'è Black & Decker. La sega multifunzione Black & Decker è uno strumento versatile che può essere utilizzato per tagliare legno, metallo e plastica. La sega è dotata di un sistema di cambio lama rapido che consente di sostituire la lama in modo facile e veloce, e di un controllo della velocità variabile per un taglio sicuro e preciso. La sega è inoltre dotata di un blocco dell'interruttore di sicurezza che aiuta a mantenere la sicurezza durante l'utilizzo. Black & Decker è un'ottima scelta per chi ha bisogno di una sega versatile e facile da usare. La sega multifunzione Black & Decker è lo strumento perfetto per una varietà di progetti di miglioramento della casa. Il sistema di cambio rapido delle lame consente di sostituirle facilmente e il controllo della velocità. Variabile permette di tagliare con sicurezza e precisione diversi materiali. Numero 2. Alpina Moto Sega. L'Alpina AX 180 è una moto sega potente, leggera e maneggevole con barra di taglio da 35 cm, per le operazioni di taglio della legna in ambito domestico, come il taglio dei ceppi per stuffe e caminetti. Il motore elettrico è dotato di una pompa dell'olio automatica con finestra per controllare rapidamente il livello dell'olio. La velocità della catena è di 10 metri al secondo con catena da 3 ottavi in punto 050. È dotato di freno catena manuale e inerziale che può essere attivato premendo sull'impugnatura posteriore. L'impugnatura anteriore può essere impugnata in alto per i tagli verticali o lateralmente per i tagli orizzontali. Infine, il numero 1 della nostra lista, i GoStar Cioccolate. Questa macchina da caffè americana consente di preparare da 1 a 10 tazze di caffè dal sapore intenso in pochi minuti. Con una potenza di 1000W, questa macchina è perfetta per chiunque voglia gustare una deliziosa tazza di caffè. La caraffa è realizzata con materiali di alta qualità e resiste alle alte temperature, in modo che possiate godervi la vostra pausa con una tazza di caffè caldo. È possibile utilizzare la caraffa anche per contenere l'acqua calda e gustare così un buon tè. La caffettiera è dotata di un semplice pulsante di accensione e spegnimento e di una finestra che consente di visualizzare tutte le operazioni più semplici. La macchina per caffè americano è il modo perfetto per iniziare la mattinata. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.